E la rima condanna per omicidio stradale è emessa dal Tribunale di Messina, 11 anni per il finanziere Ghetano Forestieri e 7 per il pasticcere Giovanni Gugliandolo, responsabili della morte della 23enne Lorena Mangano, vittima di incidente stradale lo scorso 26 giugno. La sentenza è stata emessa dal gruppo Salvatore Mastroeni. Il finanziere che si trovava alla guida dell'auto ITT è accusato di omicidio stradale, competizione non autorizzata. Il pubblico ministero Marco Accolla aveva chiesto 12 anni per Forestieri e 7 per Gugliandolo. L'incidente si verificò in via Garibaldi all'incrocio con la via Torrente Trapani. Lorena Mangano, studentessa di Capodorlando, era alla guida di una Fiat Panda. In auto con lei e anche alcuni amici aveva appena attraversato l'incrocio quando la sua vettura fu centrata da un Audi condotta da Forestieri che giunse a velocità sostenuta. La giovane fu ricoverata in ospedale in condizioni gravissime e il decesso tre giorni dopo. Per l'accusa Forestieri aveva ingaggiato una gara ad alta velocità con Gugliandolo che era al volante di una 500 Abarth, una competizione sempre negata da entrambi ma ripresa dalle telecamere collocate lungo la via Garibaldi. Il gruppo ha anche stabilito risarcimento per l'associazione delle vittime della strada a 15.000 euro, 80.000 euro invece a testa per i genitori, 60.000 euro per il fratello, 20.000 per la cognata, 50.000 euro per la sorella Marilena. Ad entrambi gli imputati è stata revocata la patente, confiscato il mezzo e sono stati interdetti dagli uffici pubblici.